Oroscopo del giorno. Martedì, 21 novembre 2023. Ariete. Amore. La posizione del pianeta dell'amore per questo martedì del mese sarà opposta, e questo vale a dire che non sarà un giorno semplice per i rapporti. Sentimentalmente ci saranno un po' di intoppi. Lavoro. Bella la posizione di Mercurio per questa nuova giornata lavorativa in corso. Toro. Amore. Una giornata che si rivelerà serena per ogni rapporto. Tutto ok per oggi, anche se non sono previste delle grandi novità sul piano sentimentale. Lavoro. Ottimo martedì per il lavoro, le stelle saranno favorevoli in questo senso. Non male la posizione di Mercurio. Gemelli. Amore. Per i sentimenti questa sarà una buona giornata, molto piacevole. Tutto filerà liscio per chi è impegnato in una relazione d'amore. Ma le cose potrebbero farsi interessanti anche per chi è single, e vuole fare una conoscenza nuova. Lavoro. Mercurio in opposizione recherà un po' di danni, e conseguenze tutt'altro che favorevoli per il vostro lavoro. Cancro. Amore. Con il partner ancora problemi. Fate attenzione a questo martedì, con situazioni incresciose da dover risolvere in amore. Venere in opposizione non aiuterà nemmeno i cuori liberi da impegni sentimentali. Lavoro. Bene le energie odierne, grazie ad un'ottimale posizione di Marte. Sfruttate bene le occasioni professionali. Leone. Amore. Venere sarà attivo in vostro favore, e questo vi porterà a vivere delle bellissime emozioni con la vostra dolce metà. Non solo però. Pure i single potrebbero avere un martedì sorprendente e piacevole per i sentimenti. Lavoro. Nonostante il favore di Mercurio, purtroppo vi toccherà contrastare ancora l'opposizione di Marte. Energie a terra. Vergine. Amore. La congiunzione del pianeta Venere per quest'oggi avrà la sua importanza. Voi potrete godervi le emozioni insieme al vostro partner, ma anche insieme ad una persona nuova nel caso in cui foste single. Lavoro. Mercurio sfavorevole, sicuramente non potrà regalarvi troppe situazioni incoraggianti sul posto di lavoro. Bilancia. Amore. La congiunzione di Venere per questo nuovo giorno del mese contribuirà a regalarvi tante emozioni e passione. I single potrebbero lasciarsi andare ad una conoscenza tutta nuova. Lavoro. Le occasioni che vi donerà Mercurio oggi saranno senz'altro tutte da sfruttare, per ottenere risultati e soddisfazioni professionali. Scorpione. Amore. La fortuna non girerà dalla vostra parte in amore, in quanto la posizione di Venere non sarà così favorevole durante questo martedì. Dovrete attendere un periodo più entusiasmante per potervi aspettare delle novità. Lavoro. Avrete tanta energia, voglia di fare e di impegnarvi al massimo. Sarà un martedì che porterà delle buone nuove e tante soddisfazioni. Sagittario. Amore. Questa nuova giornata di novembre sarà caratterizzata da belle emozioni, e da una posizione di Venere che vi regalerà qualche buona situazione in più. Il discorso varrà anche per chi è ancora single. Lavoro. La congiunzione di Mercurio non mancherà. Tra qualche giorno potrete finalmente contare anche su delle belle energie, grazie a Marte. Capricorno. Amore. Nuova giornata complicata per l'amore ed i rapporti. Sarà un giorno difficile, con Venere in opposizione. Potrebbero nascere contrasti e discussioni, sia nelle coppie, che per chi sta iniziando una conoscenza nuova. Lavoro. Potrete godere del favore di Mercurio. impegnatevi, perché le buone notizie non mancheranno oggi. Acquario. Amore. Bello il favore di Venere per questo martedì del mese. Ci saranno emozioni da vivere, sia in coppia e sia in un'eventuale nuova conoscenza. Lavoro. La stanchezza potrebbe abattervi un po'. Cercate di fare attenzione sul posto di lavoro. Pesci. Amore. La posizione di Venere sarà buona per questa nuova giornata di novembre. Cercate di godervi il più possibile le emozioni, e le situazioni che vi regalerà. Lavoro. Non si potrà dire la stessa cosa per il lavoro. Mercurio sarà ancora sfavorevole. Grazie.